buongiorno a tutti i trucciolatori e bentornati sul nostro canale oggi direi buone notizie facciamo un bel video con un esempio sempre di lavorazione tramite sinutrain con il nostro bell shopturn e novità io vi avevo detto che è un peccato che con shopturn non si possano dare le dimensioni di un grezzo di uno stampato vi ho detto una cosa errata grandissima novità fantastico shopturn più lo uso più brutta parola mi innamoro di lui con shopturn noi possiamo definire uno stampato e questo è veramente veramente interessante ci fa risparmiare davvero tanto tempo in programmazione ovviamente quando definito uno stampato tenetevi sempre al massimo della tolleranza tenete presente che andrete probabilmente a bloccare su un grezzo quindi magari il pezzo non c'era perfettamente concentrico quindi o diciamo vi tenete in condizioni sicurezza quando vi avvicinate oppure lo definite sempre un po più cicciottello di quanto è ma questo nel nostro caso non è un problema perché noi siamo fortunati simulatori quindi non andremo a sbattere al limite andremo a generare degli errori programmazione quando poi si è a bordo macchina le cose cambiano quindi mi raccomando a bordo macchina tenersi sempre dalla parte della ragione sulla destra vedete il nostro pezzo albero di rinvio lo chiamiamo fa sempre parte degli esempi standard che potete trovare sui libri sinutrain farlo con l'accompagnamento di qualcuno può essere d'aiuto per diciamo i meno pratici e qui entro in gioco io allora come sempre program manager andiamo sulla cartella pezzi e gli diciamo nuovo nuovo apriamo sempre come come di consueto una nuova cartella quindi nel fare ok non creiamo il programma bensì la cartella lui automaticamente ci dà il nome programma albero di rinvio ci chi e ci dice l'ultima volta è lavorato in shop tour quindi continuiamo così altrimenti potremmo lavorare in g code e questo ormai dovresti averlo imparato perfetto la prima cosa che mi chiede è il grezzo e qua tutto alla vecchia ossia abbiamo un pezzo il cui diametro massimo è 90 mm continuiamo a lavorare in questo senso quindi 90 mm abbiamo un pezzo grezzo vista grafica mi piace di più un pezzo grezzo lungo 100 mm quindi meno 100 con una sporgenza dai morsetti di 91 mm meno 100 e meno 91 ecco qua tutto il resto possiamo lasciarlo come nell'ultimo inserimento accettare e qua voi mi dite mai appena detto che posso definire un un grezzo e adesso non me lo definisci non vi preoccupate allora come prima cosa andiamo in turning quindi tornitura sgrossatura andiamo a selezionare già ce l'abbiamo un utensile sgrossatura 0 25 al giro 240 metri perfetto x 0 gli mettiamo 60 attenzione quella del nostro grezzo e li andiamo a mettere quindi qua abbiamo un m 48 noi consideriamo che il nostro grezzo reale quindi non quello che siamo andati a programmare abbia un diametro esterno di 60 mm ok z 0 2 ok x meno 1.6 z 1 0 allora sgrossatura ecco qua cosa mi mancava mi mancava questa parte di programma cosa gli diciamo di incremento massimo 1.5 ma tanto non ci farà niente e poi gli diamo un sovrametallo in x di 0 e in z di due decimi accettiamo per chi non ha seguito come mai non avevo queste tre caselle è perché avevo inserito la finitura e non la sgrossatura ok accettiamo e simuliamo cosa succede succede semplicemente questo guardate ok andiamo a sfacciare il nostro pezzo è una sfacciatura di sicurezza rispetto al nostro pezzo grezzo ok pezzo grezzo che in questo momento noi vediamo ancora semplicemente come un cilindro ok tornitura profilo e adesso viene il bello nuovo profilo e noi lo chiameremo grezzo accettare ora andiamo a definire il nostro profilo prima di tutto il punto di partenza in questo caso deve essere forzatamente x 0 z 0 ok accettiamo e andiamo a definire il nostro profilo ok bene inserito il primo punto dobbiamo inserire il profilo del grezzo qua lo vediamo abbozzato ma qua lo vediamo quotato per cui né più né meno come ho insegnato a inserire il profilo di un pezzo finito andiamo a inserire il profilo del grezzo ok bene seguiamo il disegno della figura evidenziata in rosso quindi andiamo verso l'alto a x 60 accettare e siamo qua andiamo verso sinistra a z meno 40 accettiamo siamo qua andiamo in obliquo a x 80 z meno 45 accettiamo verso sinistra a z meno 65 e siamo qua in obliquo a x 90 z meno 70 accettiamo e concludiamo a z meno 100 vedete che abbiamo fatto una bella figura eccola qua qua sotto vedete un soft key che mi porta al di fuori di questo menu in chiudere profilo tac ecco la sezione alta del nostro grezzo accettiamo e abbiamo inserito il grezzo bene andiamo a inserire il profilo di tornitura non sarà facile e vediamo di non fare troppi errori in diretta ma se gli farò gli commenterò insieme a voi e torneremo indietro passo per passo tornitura profilo nuovo profilo nome profilo accettiamo partiamo dal centro del pezzo che didatticamente va bene e cominciamo a muoverci come già sappiamo andiamo verso l'alto a x 48 e terminiamo con uno smusso da 3 mm come indicato in disegno lui fa la linea ma non fa lo smusso ora ci dobbiamo muovere in maniera orizzontale verso sinistra ma non abbiamo definito la z d'arrivo sappiamo solo che dobbiamo finire con un raggio 4 e qua simmes ci può aiutare ma non ci renderà vita facile accettiamo vedete lui mi fa una riga ok un segmento una linea senza fine senza direzione e tratteggiata perché mi dice c'è qual quadra che non cosa c'è qualcosa che non quadra perfetto a questo punto noi dobbiamo fare un'interpolazione circolare eccola qua il senso di percorrenza dell'utensile è orario il raggio della nostra interpolazione è 23 la x finale la conosciamo è 60 la z finale non è dato saperla abbiamo però la possibilità di inserire rispetto alle coordinate in x il centro cerchio guardate si metto sopra ce lo dice centro cerchio il centro del cerchio è 34 viso 2 17 la distanza da qua a qua più 23 40 mm noi inseriamo sempre una misura diametrale perché siamo tornitori e diciamo 80 passiamo a k e vedete che tacchete già mi dice guarda io di cerchi ne posso fare due con queste coordinate uno a destra rispetto allo zero e uno a sinistra rispetto allo zero seleziona dialogo vedete mi evidenzia in rosso uno o l'altro sappiamo già che noi siamo a sinistra dello zero e accetto dialogo vedete però che mi seleziona un cerchio diciamo di delle dimensioni che non sono corrette ma io ancora attiva seleziona dialogo vedete lo premo e mi dice guarda posso anche fermarmi lì o k quindi accetto dialogo ok e qua viene la parte difficile dopo aver selezionato la costruzione per realizzare l'arco bisogna inserire il k 35 ok che è la posizione del centro della tolleranza rispetto allo zero ok però se io vado in k 35 non me lo permette allora accetto e non me lo fa raggio 4 perfetto ecco qual era il problema non so se ci avete fatto caso era in incrementale invece io devo passare vedete incrementale assoluta e devo dargli meno 35 accettare sono piccole sottigliezze che vi possono far perdere un'ora come vedete anche io che vi garantisco me l'ero preparata questa perché sapevo mi sono nuovamente dimenticato ok io a questo punto andrei a cancellare l'elemento e a ripetere l'operazione ok siamo tornati indietro siamo tornati dove avevamo solo una linea indefinita orizzontale ossia la cresta del filetto inseriamo la nostra interpolazione circolare gli diamo il senso della rotazione il raggio del l'interpolazione che andremo a realizzare tutte le coordinate che abbiamo a disposizione in questo caso la x che è 60 che è la posizione di fine raggio non abbiamo la z abbiamo il centro del raggio a 80 mm a questo punto la macchina intelligente ci dice posso realizzarne due di cerchi quale vuoi con seleziona dialogo selezioni in rosso la parte di sinistra accetto il dialogo c'è qualcosa che non mi torno vado se vado a vedere se può dialogare con me la macchina e selezionando dialogo vado a inserire questa parte accetto dialogo cosa devo fare devo andare a inserire la coordinata di centro in incrementale c'è qualcosa che non quadra la trasformo in assoluto e vado a inserire questa z meno 35 dopodiché vado a inserire il raggio 4 smusso raggio 4 è stata dura ma ce l'abbiamo fatta ok a questo punto mi porto a z meno 75 con un movimento lineare orizzontale z meno 75 finisco con un raggio 6 accetto e vado a inserire questo punto tramite un movimento inclinato e le coordinate che ho a disposizione quindi x 90 z meno 80 raggio 4 accettiamo e andiamo a terminare con uno z meno 90 accettiamo e accettiamo ancora abbiamo definito il profilo perfetto è ora di cominciare a pensare alla nostra lavorazione quindi andiamo sempre in tornitura profilo e cominciamo a parlare di sgrossatura sgrossatura che preverà un utensile che mi permetta di fare un sottosquadro in questo caso andiamo a selezionare un utensile allora rudin cnmg quindi questo è un 80 gradi andiamo nel nostro magazzino lista degli utensili andiamo a prendere ecco vedete che qua è già stato modificato perché l'ho utilizzato in un in un programma precedente e quindi andiamo a modificare la dicitura in dnmg a 55 gradi il 55 gradi è un utensile che viene utilizzato spesso nell'altezza da 15 mm quindi 15 0 6 0 8 per delle sgrossature non troppo spinte trasferiamolo al programma diciamo alla nostra macchina che può lavorare a 13 mila al giro e dobbiamo fare facciamo una bella sgrossatura più finitura quindi utilizziamo lo stesso utensile in finitura andremo un attimino più piano di avanzamento un dnmg non lo spingerei oltre i 3 mm di profondità di taglio e facciamo i sottosquadri ora profilo vediamo se tutto a posto mmg sotto squadro ecco attenzione se qua lasciate cilindro lui lavorerà un cilindro se lavorate se premete sovrametallo vi sgrosserà solo il sovrametallo noi in questo caso dobbiamo per forza andare a indicare profilo profilo non è un nome standard profilo è il nome del sottoprogramma che ho scelto io quando ho creato il profilo attenzione perché spesso e volentieri voi lavora lavorate in queste condizioni di conseguenza dovete andare a cambiare questa dicitura accettiamo e simuliamo bene ah ok cos'è successo adesso ve lo spiego quando noi abbiamo sfacciato il pezzo abbiamo utilizzato e questo è un errore mio abbiamo utilizzato un utensile che poi sono andato a modificare quindi lui adesso questo utensile non lo trova più per comodità io andrò a selezionare lo stesso utensile vedete accettiamo in realtà voi avreste dovuto volendo allestire una torretta con un utensile in cnmg per sfacciare e un utensile per sgrossare ecco qua vedete che il problema era tutto lì spero sia chiaro allora adesso in 2d vedete bene che lui cosa fa ignora completamente il cilindro e mi va a fare gli avvicinamenti in rapido laddove serve vedete 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 qua gli errori gli errori eccoli qua gli errori che si possono fare per leggerezza ma è bello anche fargli gli errori perché con gli errori si capisce e la prossima volta si migliora allora torniamo un passo indietro dopo rivediamo il discorso grezzo quindi facciamo un lavoro come si deve andiamo in sgrossatura laddove andiamo a sfacciare seleziona utensile andiamo in lista utensile e andiamo a creare qualcosa di più corretto carichiamo un utensile quindi carichiamo interruzione selezione magazzino nuovo utensile uno sgrossatore e gli diamo ok eccolo qua andiamo a svuotare la posizione numero 1 scarichiamola andiamo a prendere lo sgrossatore e lo carichiamo in posizione 1 lui ve lo caricherà sempre nella prima posizione libera poi andiamo a prendere il dnmg e lo carichiamo vedete lui me lo carica nella 18 se io voglio poi caricarlo altrove non c'è problema lo carico altrove ora sgrossatura trasferiamolo al programma accettiamo poi qua abbiamo una sgrossatura che io ho suddiviso ho fatto contemporaneamente sgrossatura e finitura non mi sta più bene di conseguenza vado a fare solo la sgrossatura e vado a selezionare l'utensile corretto che io ho messo in posizione 18 ok dopodiché accetto torno in tornitura profilo sgrossatura finitura e vado a selezionare cosa l'utensile a 35 gradi questo sarà in grado di eseguire questo profilo perfetto avanzamento gli mettiamo due decimi al giro e gli diciamo che può eseguire i sottosquadri accettiamo e simuliamo ora facciamolo prima alla veloce guardate la sfacciatura vedete dove va a lavorare va dove esiste il grezzo attaccate attaccate sgrossa ovviamente qua non può scendere ma arriverà il finitore che riesce a farlo ora controllo programma e la blocco singolo indietro e partiamo da capo perfetto perfetto lui cosa fa crea un cilindro vede il grezzo che gli ho dato io e parte noi qua attenzione non vediamo che sfaccia perché lui sfaccia a partire da 60 mm vi ricordate perché per lui questa parte di grezzo non esiste difatti vedete che l'inserto è interno al pezzo casomai nel programma possiamo dare possiamo essere un po' meno precisi all'avvicinarsi al pezzo poi cosa fa si allontana e si avvicina al pezzo dove si avvicina eccolo qua si avvicina come se il cilindro non esistesse perché per lui il cilindro non esiste in questo momento vedete e così via controllo programma togliamo il blocco singolo e ripartiamo in 3D vedete questa ragazzi è una gran cosa è una grandissima potenza di programmazione popolare non è da sottovalutare quindi poter definire il grezzo vuol dire avere la possibilità di gestire anche gli stampati secondo me nella mia vita professionale io questo strumento non l'ho avuto a disposizione e devo dire che mi spiace mi spiace perché è uno strumento molto valido bene andiamo a fare andiamo a fare la nostra bella gola quindi torniamo in edit andiamo in tornitura troncatura interruzione non troncatura ma gola eccola qua la nostra gola come vedete assomiglia a questa diamogli un po' di dati allora l'utensile selezionato già mi piace i parametri mi piacciono quindi x 0 z 0 allora guardate qua vedete usiamo i dati che abbiamo a programma lui mi quota questo angolo e io questo angolo vado a prendermi per cui abbiamo una x di eccola qua 60 una z di meno 67 una larghezza che non abbiamo quindi la cancelliamo una profondità di 4 millimetri un alfa 1 di 15 gradi un alfa 2 di 15 gradi ecco scusate B1 e B2 noi abbiamo la profondità che è 4,2 chiedo scusa quindi andiamo a modificare l'intestazione 4.2 abbiamo detto che qua abbiamo 15 gradi e abbiamo tutti i raggi a un millimetro quindi 1 1 1 1 1 la D non voglio lavorare in tuffo sgrossatura più finitura sovrametallo di sgrossatura n 1 quindi la D che è lo spostamento delle gole viene eliminata accettiamo e simuliamo intanto andiamo in controllo programma mettiamo pure al 100% e come potete vedere anche la gola è perfettamente fatta cominciamo a lavorare con qualche utensile motorizzato quindi torniamo al nostro programma fresatura io voglio fresare una bella tasca eccola qua una bella tasca quadrata quindi andiamo a selezionare l'utensile vediamo che fresa abbiamo abbiamo una fresa diametro 20 un po' eccessiva eccola qua usiamo questa fresa diametro 3 un po' piccola allora noi dobbiamo fare però raggio 4 quindi diametro 8 prendiamo una fresa da 8 va benissimo perché questo è un diametro quindi ok lavoriamo a 2000 giri 50 mm al minuto la sgrossiamo allora per adesso la sgrossiamo e lo facciamo in un colpo solo come facciamo allora x0 y0 z0 che sono le coordinate del centro v è la larghezza che è 23 mm è una tasca quadrata quindi 23 anche la L ha un raggio di 4 mm eccolo qua vedete che è molto facile non è per niente inclinata ha una profondità vediamola non riesco a capire la quota non perdiamoci troppo tempo ah eccola qua T3 di 3 mm perfetto quanto vogliamo asportare in larghezza della fresa di ogni passata è una fresa da 8 asportiamo 4 mm profondità 1.5 così la facciamo in due colpi e non voglio sovrametarlo accettiamo e simuliamo impossibile numero di denti per tagliente non immesso ho dimenticato un codice ok ok probabilmente quello che ho dimenticato potrebbe essere nella tabella degli utensili andiamo a vedere selezione utensili presa lista utensili presa 18 e come vedete numero dei taglienti presumo vedete numero dei denti 0 la macchina non può calcolare l'avanzamento al tagliente facciamo uno Z4 gli diamo ok trasferisce al programma accettiamo e simuliamo tacate vedete che ogni errore ogni nodo viene al pettine mi stavo dimenticando il filetto M48x1,5 qualcuno mi dica che non è una figata vedete ora io mi aspettavo che graficamente la facesse a 0 gradi adesso abbiamo 4 fori da fare sono 4 fori del 5 profondi 10 mm andiamo a farli dopodiché ci preoccupiamo di ciò che vediamo e se c'è da aggiustare aggiustiamo bene è ora di fare i 4 fori di fronte alla nostra tasca quindi foratura 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 a lesatura e cominciamo inseriamo l'utensile punta eccola qua da 5 ok e l'abbiamo inserita poi mettiamo una F di 0.06 e una S e una V di 140 metri così tanto per Z1 10 mm ci fermiamo in fondo 6 decimi di secondo e gli diamo l'ok a questo punto quello che ci interessano sono le posizioni dei nostri fori ecco qua che gli diamo le posizioni a questo punto noi possiamo dargli le posizioni in più modi possiamo dargli tramite la X e la Y quindi delle coordinate reali ed effettive oppure tornare indietro e dirgli ma guarda fammene fammi 4 bei fori centrati a 180 gradi da loro guardate qua allora alfa è l'angolo di partenza della figura 90 sono gli angoli l'angolo che dista tra un foro e l'altro 16 è il diametro 32 su cui si poggeranno i nostri fori e 4 sono i fori noi accettiamo e simulando avremo i nostri fori l'unica cosa che dobbiamo fare ora è accertarci che i nostri fori siano correttamente inclinati rispetto alla figura quadrata fresata in centro al pezzo se qualcosa non fosse andato per il verso giusto andiamo a modificare gli alfa e invece come vedete avendo dato degli alfa zero le figure sono a posto il filetto noi lo abbiamo già fatto in un altro tutorial ma visto che non è difficile aggiungiamoglielo quindi torniamo in edit andiamo in tornitura filetto guarda trading 1.5 m48 per 1.5 perfetto dobbiamo sicuramente lavorare senza tabella perché non credo per passo 48 normalmente sia 1.5 quindi passo è a posto tutto a posto lineare filetto cominciamo a dargli più che altro i nostri punti di lavorazione quindi 48 lunghetta in questo caso la dobbiamo dare un pochino a naso se non potremmo andare a leggere il programma il programma perché vedete che qua non ne la da quindi noi gli diamo meno 25 poi vediamo se dobbiamo allungarla e qui ci aiutano molto perdon questo è lo z iniziale e questo è la lunghezza z meno 25 distanza di sicurezza distanza d'uscita profondità del filetto angolo d'attacco incremento sovrametallo per la passata di finitura accettiamo e siamo a bolla bene questo questo video ci tenevo a farlo perché nel momento in cui mi sono reso conto che si poteva programmare appunto lo stampato ho detto io questo video lo devo fare subito perché è veramente una buona una buona cosa per chi deve fare tanta programmazione senz'altro questa opportunità che dà lo shop turn è da prendere in considerazione è molto valido è molto facile vedete che abbiamo il pezzo simulato perfettamente abbiamo un'intuitività della cosa che lascia veramente basiti la programmazione ISO viene davvero a meno con questo potente strumento io spero di avervi mostrato qualcosa di interessante per le vostre professioni per chi deve imparare soprattutto immagino che i tornitori più avvezi non abbiano bisogno di me se vi è piaciuto il video come sempre un like un'iscrizione una condivisione vediamo di farci conoscere grazie a tutti per essere stati con me e alla prossima buona serata grazie a tutti grazie a tutti